capo di mister topolini io sono mister rocco vi presento l'aspirante mister numero 51 sei sicuro così mi piace la sicurezza nome e cognome alex mercedic alex di anni 21 21 anni sei un ragazzo molto giovane dove sei ma vorresti essere di indifferente si vabbè muia muia si che muia è muia vabbè sono più a trieste che a mugia in realtà però vabbè allora cosa fai 21 anni studente lavoratore universitario se faccio psicologia buono sì sì sono il primo anno adesso è andata bene sì sì ho già fatto il numero di esami necessari per passare al secondo e via bene bene così continua così bravo tu sai che lo studio è importante sì sì sei un po' emozionato un po' sì eh c'era anche l'altro anno in effetti mi ricordo di te quindi ti vedo anche cresciuto in termini di fisico insomma non mollo mai tu fai palestra cosa fa palestra e arti marzellimiste l'altro anno faceva arti marzellimiste ah ecco perché ti sei gonfiato eccetera quella palestra comunque faccio naturale sono naturale ho capito ho capito va bene senti il sogno nel cassetto difficile dirlo avere un sogno ce l'hai no non so cioè a me piace viaggiare sono i precisi no che frega un appunto vivi la vita la giornata sì infatti bisogna viverla ogni giorno è vera vera ragione tu sei fidanzato o sei single no sono single è caduto un cellulare si è fatto in mille pezzi sì anche se c'è una comunque che mi che mi interessa aia vieni qua vieni qua approfondiamo non c'entra però c'è una ragazza che ti piace sì sì ma non è qui no 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 la vedrò ai prossimi giorni ho capito beh allora in bocca al lupo nel corteggiamento se uno sei uno romantico se uno più aggressivo come hai intenzione di corteggiarla no se una mi piace sono buono io di carattere quindi di sicuro non sono quindi sei un romantico abbastanza allora vecchio a scuola magari un fiore sì un bel messaggio ci scriviamo una lettera scusa sì vabbè dai in bocca al lupo allora mi fai sapere va bene sì ha promesso sì ok va bene quella telecamera di misto porini miss e mister topolini puoi dire salutare chi vuoi saluto ele saluto tutti gli amici le amiche saluto il bomber di trieste ronza 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 una farima con monza ho capito sta sudando come uno tre la tensione ma allora ascolta mi raccomando fammi sapere con sì sì vabbè in bocca al lupo crepi ci vediamo ciao 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 ciao